Cari amici e carissime amiche di YouTube e di tutti i social, vi volevo ancora una volta ricordare di iscrivervi al canale di Vincent Lionheart, di tenere attivata la campanella, di commentare possibilmente in maniera costruttiva positiva, di lasciare sempre dei bei like ai video e di condividere a manetta al massimo il più possibile perché bisogna diffondere il sacro verbo di Vincent Lionheart. Ci si vede al prossimo episodio. Action!